ciao a tutti io sono veronica e bentornati su questo canale oggi vi faccio vedere la mia colazione allora io partiamo dal presupposto che io non mangio la sbobba di luca quindi già abbiamo fatto un progresso io al mattino mi faccio un porridge il porridge tendenzialmente si fa con l'avena con i fiocchi d'avena io i fiocchi me li faccio da sola comprando l'avena che macino con questa fioccatrice e mi macino non lo so mi dura abbastanza dico la verità forse ogni due settimane mi faccio una macinata di fiocchi allora l'avena che utilizzo è quella che avrete visto sicuramente anche nel video di luca della sua sbobba è questa che è della castellina cortonese spero si veda che è un'azienda agricola che vende i suoi prodotti tramite la filiera del gruppo d'acquisto dei gruppi d'acquisto è un prodotto molto buono a me piace sia a livello di rapporto qualità prezzo mi piace veramente molto io tolgo di solito tolgo la come si dice l'avena dal sacchetto la metto anche perché a volte mi avanza la metto in un barattolo e la faccio da qui il barattolo con scritto le cose che cosa c'è dentro perché almeno non mi confondo allora cosa utilizzo utilizzo questo macchinario che sfrutta una cosa molto semplice ovvero la forza delle vostre braccia adesso io non so i dettagli tecnici comunque si mette qua ho già messo dell'avena perché ne avevo un po di avanzate in un sacchetto si mette il cereale qui io queste con queste farfalle sostanzialmente si si tara un po l'ampiezza della della macina qui che te le che te le taglia che te le frantuma e ti fa il fiocco e poi uscirà il fiocco che metterò all'interno di questo vaso è un vaso abbastanza grosso io non so quanto ce ne stia dico la verità però diciamo che a me è dura appunto come dicevo circa due settimane adesso devo farvi vedere i passaggi allora circa due settimane perché io faccio tendenzialmente tutte le mattine la stessa colazione però magari ogni tanto o al sabato o alla domenica vario un po e magari mi faccio o il wasami su che vi farò vedere che cos'è oppure magari mangio uno yogurt di soia con della frutta e altro però il 99,9 per cento della mia colazione è fatta dal porridge ora io spero che funzioni anche con una mano sostanzialmente voi vi mettete qui quando non sapete cosa fare oggi per esempio c'è una brutta giornata finalmente piove un po perché da noi è da un sacco di tempo che non pioveva quando non sapete che cosa fare vi mettete qui e vi tritate la vostra avena i fiocchi sono questi a me piace perché fa questo spessore che è abbastanza sottile e quindi cuoce molto bene nel pentolino allora io oggi faccio questo lavoro qua di di fioccatrice di cose poi ci rivediamo il giorno dopo quando farò vedere come la cuocio con i vari ingredienti e soprattutto la quantità di ingredienti che gli ingredienti che utilizzo è una colazione comunque che mi sazia parecchio perché comunque anche questo è un cereale integrale ed è molto buona poi in realtà è molto versatile perché io in base agli ingredienti che ho a livello di frutta perché io la condisco con della frutta faccio delle colazioni diverse ovviamente in estate magari la farò con le pesche o altra frutta in inverno la faccio con altri con altri frutti insomma spero che possa interessarvi e ci vediamo al prossimo video buongiorno siamo al mattino dopo e adesso vi faccio vedere come cuocio la mia il mio porridge questa è l'avena che avevo fatto ieri ho fatto questo bel barattolone e adesso vi do anche le quantità che utilizzo io allora io ho uno di questi misurini qua che è mezza cap qua da 125 millilitri ma non sarei tanto sicura sul su questa misura io vado di cap mezza cap di avena e la riempio avendo cura di buttarne metà fuori poi la metto nella mia pentola ok adesso la misura perfetta secondo me è data da allora prima ci metto un po di cacao un cucchiaino così scusa togliela e poi ci metto un pochettino di cannella che è sempre quello che avete visto nella sbocca di luca una puntina perché questa qua è potente di cannella poi do una mescolata così si rompono un po' i grumi del cacao amaro qua non c'è zucchero come nella colazione di luca a parte quello della frutta poi misuriamo acqua e latte secondo me il migliore modo di farlo è mettere una parte di latte e una parte di acqua latte e bevanda vegetale tendenzialmente prendo sempre quella di avena perché è sempre quella non zuccherata e quindi se voglio fare anche delle ricette salate posso comunque utilizzarla e poi ha il gusto più neutro non sa di erba non sa di niente oggi ho questa allora faccio una parte di bevanda di avena ci do una miscolata e dopo lo porto sul fuoco dopo che finiamo yoga la portiamo sul fuoco la facciamo un po' bollire fino a raggiungere una consistenza che poi vi farò vedere e poi la impiatteremo nella mia ciotolina e poi vi farò vedere cosa ci metterò dentro allora niente ci vediamo alla seconda parte eccoci ai fornelli il mio porridge è quasi pronto alziamo un pochettino c'è la slova di luca vedete a me piace questa consistenza tra il liquido e il denso a parte che poi quando lo mettete nella sì non ha una bella faccia anche la mia però vi assicuro che è molto buona molto più buona di quella di luca adesso stacco tanto è pronto tutto va bene e adesso andiamo all'impiattamento chi se ne frega della sbobba l'impiattamento è la cosa più bella la faccio oggi perché dovresti perché io sono di qui allora mettiamo il porridge sotto perché oggi vogliamo fare una cosa un po' più estetica giusto? cioè non proprio pastone delle galline porridge sotto poi ho qua la crema di mele che avevo fatto ieri mi ricordo che praticamente lo zucchero ce lo dà tutte queste cose qui buone facciamo magari due cucchiai di crema di mele poi buona poi qua abbiamo della frutta che è dell'ananas in questo caso c'è anche una prugna adesso facciamo queste decorazioni un po' instagrammabili e se no sembra veramente la sbobba anche la mia un po' di ananas poi chi gli dà il dolce poi ci mettiamo una banana che ha visto tempi migliori però per fare le porridge è l'ideale tra parentesi io ogni tanto metto direttamente una banana molto matura tipo questa la metto direttamente nella nel pentolino del dell'avena con latte perché gli dà un po' di cremosità ok e infine no infine no perché poi ci mettiamo un po' di semi questo è un mix di semi che avete visto anche da Luca in questo caso ci sono semi di girasole semi di papavero e semi di lino mettiamo un po' e la cosa che non può mancare nel porridge come nel nella sbobba è il burro d'arachidi in questo caso crunchy che gli dà un po' di buono mettiamo un mezzo cucchiaio poi dietro le telecamere ne aggiungiamo un po' allora questa è una ricetta che va bene anche ogni tanto io la faccio anche in estate freddo nel senso che lo metto in una ciotolina senza la frutta e lo metto in frigo lo faccio la sera prima per il giorno dopo quello che gli dà un po' di corposità per una cosa del genere sono i semi di chia magari ce ne aggiungete una manciatina così gelatifica un po' tutto gelatinizza ok questa è la mia colazione dei campioni è buonissima c'è un po' più una bella faccia di quella di Luca e insomma a me piace la faccio praticamente sempre ogni tanto vario cambio magari ci metto lo yogurt come colazione però tendenzialmente faccio sempre questa e niente spero che vi piaccia di più che la sbobba e vi ringrazio per essere stati a vedere il video fino a qui e grazie a tutti e ci vediamo ciao